La Lega Nord ha detto no al voto di fiducia al governo Letta, perché? Perché sono passati pochi mesi, abbiamo cercato di essere assolutamente coerenti in questi mesi. La nostra era un'apertura di credito nei confronti del governo Letta quando ci siamo astenuti, perché ce l'ha piaciuto il discorso, aveva parlato di riforme, riforme entro 18 mesi, si era parlato anche di federalismo, questo intervento di oggi è stato veramente di basso profilo, non c'è assolutamente nulla che può interessare le famiglie e le imprese del Nord. Per cui chiesto un'altra volta, prima della replica, da parte dei nostri senatori, la risposta è stata quella di parlare di macroregione, così come un'ipotesi su cui si discuterà in Europa, la risposta non c'è piaciuta, non c'è nulla di quello che abbiamo chiesto e anche quello che ho sottolineato io nell'intervento che ho fatto in dichiarazione di voto e proprio per questo noi continueremo in coerenza la nostra linea che è quella di sfiducia al governo Letta. Il PDL si è spaccato, Berlusconi ha fatto un passo indietro, è una notizia che nessuno si aspettava? Beh è un balletto che ha un po' dell'incredibile, in questi ultimi giorni, in questa ultima settimana c'è una grossa spaccatura, è inutile negarlo, all'interno del PDL, forse due anime, magari anche di più, di due si sta conformando questo nuovo gruppo, dispiace perché è un travaglio sempre all'interno di un partito però è anche vero che oggi è cambiata la storia, cambia la storia degli ultimi vent'anni la scelta di appoggiare la fiducia da parte di Berlusconi al governo Letta sposta solo nel tempo una frattura che ormai mi sembra alquanto inevitabile.